Sono sette i comuni costieri della provincia di Salerno finanziati per 42 mila euro nell'ambito del progetto Spiagge Sicure, iniziativa del Ministero dell'Interno finalizzata a combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica. A beneficiare della misura Amalfi, Ascea, Centola, Maiori, Pisciotta, Positano e Ravello. Il contributo potrà essere destinato per l'assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato, per coprire gli straordinari, per l'acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative.